allora questo video per rispondere ad alcuni di voi che sono degli artisti che insomma lavora in qualche modo nel mondo dell'arte mi chiedono quali colori acrilici preferisco a me piace sperimentare quindi spesso anche me ne regalano di nuovi e io li sperimento fondamentalmente uso questi tre tipi di acrilici questi sono stati non faccio pubblicità è quindi non sono pagata dagli sponsor sto dicendo proprio quello che uso ho iniziato con questo tipo di acrilico di colore acrilico devo dire che mi trovo molto bene successivamente ho cominciato a lavorare con questi acrilici e devo dire che per certi versi li preferisco quindi in una prima fase mi piaceva quello che era un po più solido secondo me come tipo di acrilico questo è un po più morbido si avvicina un po di più all'acquarello è molto facilmente lavorabile quindi questo mi piace vi devo dire poi che a natale mi hanno regalato una scatola di questa marca di colori acrilici dentro ci sono dei mini tubi ma ci sono tantissime sfumature di colore tantissimi colori secondo me sono buonissimi io con questi mi sono trovata veramente bene e proprio perché esistono tantissime sfumature di colore mi ci diverto molto il problema secondo me di questi colori è che non esistono a parte pochissimi da parte pochissimi di questi colori non esistono i tubi grandi insomma i formati più grandi quindi per riavere tutta la serie di colori dovrei riacquistare una scatola come questa con magari alcuni che non uso rimangono lì e rimangono doppi tipi eccetera però devo dire che sono veramente buoni e soprattutto esistono delle tonalità di colore secondo me veramente ottime ecco spero di aver risposto a chi mi faceva domande visto che stiamo parlando di arte di quadri per chi mi chiede se i quadri sono in vendita sì alcuni sono in vendita andate sul mio portale ma soprattutto sul mio portale trovate tutti i prossimi appuntamenti in cui appunto ci saranno le esposizioni delle mie opere in italia non solo a questo punto vi saluto ci vediamo presto ciao